Ora vi racconto la bella favorezza. C'era una volta un terzetto che siete voi metti. Questo terzetto è andato a rubare la casa Ruana. È andato a rubare il bar di Zio Caglioso. Nella verdeggiante Umbria c'è una giara conservata del valore di 2 milioni di euro. E se c'è il nome vanno là, è ma poi. Mi piace la favoletta.